Oggi è il Senza Zaino Day, una giornata dedicata alla democrazia, alla non-violenza, alla pace. È una giornata dedicata a questi temi. I bambini saranno impegnati in attività a classi aperte. Abbiamo il laboratorio di teatro, in cui possono mimare, rappresentare le parole come pace, amore, amicizia. E abbiamo un laboratorio di disegno, dove insieme i bambini di tutte le classi produrranno un manifesto sulla pace. Poi c'è anche il Cineforum, quindi assisteranno a due cortometraggi su questi temi. E abbiamo anche le Olimpiadi della democrazia. Abbiamo una ragazza del CONI che per amicizia nei nostri confronti verrà e organizzerà per i ragazzi la staffetta della pace, il gioco della gioia con la palla. E oggi pomeriggio ospiteremo un ragazzo del Gambia, Jabelle, che è un cantastorie. È un ragazzo che è arrivato anni fa con i barconi, adesso è un artista e musicista anche affermato. Riuniremo tutti i bambini della scuola in un grande agorà e Jabelle ci racconterà il suo viaggio. Quello che mi preme, insomma, sottolineare è che in questa scuola questi esercizi di democrazia si fanno quotidianamente, perché all'interno di ogni classe esiste un sistema delle responsabilità, quindi i bambini hanno degli incarichi quotidiani. Abbiamo un consiglio dei ragazzi che si riunisce per parlare anche con la dirigente delle loro esigenze e di quello, insomma, di come vorrebbero la scuola. E diciamo che questo discorso della non violenza e della pace rientra nel nostro curriculum quotidiano. Noi cerchiamo sempre di abituarli a spostare lo sguardo sempre al di là del proprio vissuto e a farsi degli interrogativi e a trovare delle risposte su argomenti di grande attualità. Quindi cerchiamo di tenere sempre la scuola in contatto col territorio e con il mondo. Noi facciamo parte di un'area nazionale che è il Movimento Senza Zaino. Abbiamo aderito a questo movimento perché? Perché la Mascarucci comunque è sempre stata una scuola innovativa. La grande rivoluzione di questo movimento, di questo modo di fare scuola, è anche riorganizzare gli spazi scolastici. Oltre che a eliminare proprio lo zaino fisicamente, ci siamo organizzati come in molte scuole europee, per cui non ci sono più i banchi monoposto, abbiamo delle isole, dei tavoli quadrati, attorno a cui ci stanno 4 o 6 bambini. I bambini non hanno un astuccio personale, ma condividono un materiale uguale per tutti e hanno dei box in cui riporre i loro materiali e quindi portano a casa solo lo stretto necessario. E soprattutto le aule sono attrezzate a laboratorio, quindi abbiamo dei laboratori in cui trovano materiali didattici di matematica, italiano, scienze, arte. Usiamo molti strumenti didattici costruiti da noi insegnanti a disposizione dei bambini. Quindi si va al di là del libro, si usa il libro, ma si va anche al di là dell'uso del libro e del quaderno. Abbiamo anche la Gorà. La Gorà è un momento di condivisione. Abbiamo mutuato dall'antica Grecia questo momento quotidiano in cui ci si riunisce in cerchio e è l'occasione per esprimere il proprio parere, imparare ad ascoltare gli altri.